ho troppi cose da studiare non ce la farò mai non so neanche la cosa a cominciare letto 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 avendo tutto riuscirò ce la farò, ce la farò supererò questa quarantena si, si, si verrà un capolavoro guarda cos'è non lo capisci? le altre contemporanee a becero certo prof in meccanica quantistica l'equazione di Schrodinger è un'equazione fondamentale che determina l'evoluzione temporale dello stato di un sistema ad esempio di una particella di un atomo o di una molecola cosa c'è? devo crescere è un'equazione di un'equazione di Schrodinger